Serata di festa e di presentazione in piazza Sant'Agostino anche per l'Arezzo Calcio Femminile. La società della presidente Chiara Tavanti si è presentata in piazza insieme all'Arezzo Calcio. Un rapporto di collaborazione che andrà avanti e che impegna anche sul nuovo fronte l'Arezzo Calcio Femminile, società fresca del ripescaggio in Serie B. Una stagione impegnativa, quella che sta per partire per il Calcio Rosa Aretino, non solo per quanto riguarda la prima squadra, ma anche per il settore giovanile. Sono contentissima perché è un'unione nata da anni di amicizia, collaborazione e di portare questo Arezzo finalmente nel posto che merita. Abbiamo chiesto il ripescaggio in Serie B, abbiamo ottenuto. Era importante per noi entrare in questo teatro nazionale perché abbiamo due settori che sono già a livello provinciale e due a livello regionale, avevamo bisogno di entrare nel nazionale. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto un buon lavoro mediatico, spero che renderemo la nostra città orgogliosa di noi. L'obiettivo è la salvezza. Il nostro progetto quest'anno abbiamo preso Manuela Tesse che ha una carriera di tutto rispetto e avevamo bisogno di una donna che insegnasse i valori e la tecnica alle nostre ragazze, perché noi abbiamo ragazze prevalentemente di Arezzo con delle doti bellissime e volevamo una persona che le tirasse fuori in tutto e per tutto, perciò è un progetto di crescita. Certo, quest'anno ci aspettiamo la salvezza e poi chissà.